In giro per i quartieri di Taranto per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e dare risposte, far sì che l'amministrazione possa intervenire. Oggi è il turno di Taranto 2, siamo nello specifico in via Etolia, ho al mio fianco il signor Mario, il quale disperato, ci sta segnalando tante criticità dell'aria. Allora Mario, iniziamo dalla prima criticità, la sporcizia. Siamo pieni di sporcizia qua. I rifiuti non vengono rimossi, da parte di Chima Ambiente Amium. Ci stanno da 10-15 giorni qua, perennemente così, puliscono, poi succede che va a finire che passano altre macchine, vengono a scaricare qua. E passano altre 15-20 giorni. Oltretutto mi facevi rilevare opportunamente, la Tari è schizzata alle stelle. Quanto hai pagato quest'anno? Io quest'anno ho pagato 322 euro per avere questo. Questo porcile, diciamocelo apertamente. Non si fa una pulizia di strada? Radicale. Non si fa. Niente, ogni tanto vengono a fare un po' di erba. Andiamo nello specifico. Prego l'operatore, vedete qui la situazione. Allora, chiariamo un aspetto. Il cittadino incivile che scarica di tutto va certamente sanzionato, bastonato, tutto quello che volete voi. Ma è compito dell'ente comune, nella fattispecie di Chima Ambiente Amiu, provvedere poi a rimuovere questi rifiuti. Perché è vero che ci sono gli incivili, ma non è che tu sol perché hanno lasciato, buttato di tutto di più. Io, abitante di Via Etolia, devo vivere nel porcile per 15-20 giorni aspettando la grazia che poi ci si degni di andare a rimuovere appunto quello che è stato buttato. Guardate qui c'è di tutto, c'è una fiera campionaria di rifiuti. E là è pieno di topi qua dietro, perché questo è un fabbricato che è stato da 30 anni qua. È ovvio che poi questa zona in particolare, poi andremo anche a parlare del fabbricato, ma andiamo con ordine. Qui si crea questo mix esplosivo derivante dai rifiuti che vengono accatastati e abbandonati, dalla zona abbandonata, quindi Sterpaglia, Acquitrini che favoriscono ovviamente la presenza di ratti e insetti e il porcile, perché le espressioni vanno dette, è bello e pronto. Allora, il problema è che nella zona di Taranto 2 questa è la più schifosa, che non vengono mai a fare niente. Ci sono buche, non vengono mai a ripararle, non fanno mai pulizia all'interno, se viene all'interno vedrai lo schifo, pieno di carte, stiamo pieni, stiamo combinati male. C'è un altro aspetto purtroppo drammatico che i cassonetti sono stati sistemati soltanto qui, non presso gli altri palazzi, gli altri residence, per cui ovviamente in questa zona si viene a creare il grande centro di raccolta di rifiuti. Dinanzi a noi non ci sono cassonetti in questi stabili di fronte, tutto pulito, in questi stabili qui vicino neanche. E ora invece questo è diventato il gran centro di raccolta, l'immondezzaio, qui vengono a essere conferiti tutti i rifiuti del circondario. E allora, cari cittadini di Taranto, coloro i quali ancora credono alle favole di Melucci o coloro i quali hanno creduto, non so per quali ragioni, se per ragioni che non possiamo dire qui o per stoltezza alle favole di Melucci circa la rinascita che lui starebbe seminando, beh, se Melucci dice che sta seminando la rinascita, io dico che qui si è seminato, si sta seminando il porcile. Grazie.